però il double pump ci doveva essere non ha senso ma aspetta ma quindi ci potrebbe essere anche la mitaglietta vecchia 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 in questo caso quella uz uzibo non lo so spero di si io spero di si oh mio dio il bus vecchio però potevano fare la cosa vecchia la mappa vecchia è vero che potevano fare la mappa vecchia no che c'è ecco per quello io non gioco mai a battaglie reale perché mi fa schifo cosa c'è oh che pizza cosa c'è perché giustamente devo incontrare quelli forti giustamente ci credono giochi quanti che sembra salva al mondo di merda eh perché forse è quello mi piace di più salva al mondo detto sinceramente ecco anche a me me l'hanno dato questi 14 giorni anche a me ma vado a vedere che cosa c'è avvia avvia un perder modalità creativa o partecipa a uno esistente ok devo andare in creativa in questo cazzo ma sei hai già giocato in creativa oh no c'è uno cavolo 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 comunque lo dovevano mettere a double pump hanno fatto una cazzata comunque c'è rega ci sono dei mini regali ci sono cioè ci sono dei piccoli pacchi di regali comunque devo dire una cosa questo non è forza c'è rega rega non mi fa entrare nemmeno in creativa per quanto la gente sta provando a fare questa roba no mio dio no le granate impulsi rega rega no mi sono ritornate eh non sono nella modalità questa qua dai che pizza perchè non le le aggiungono sta epic schifosa no no non si dice e allora dico io ho il coraggio di dirlo perchè l'epic nonostante questo cioè non fa nemmeno di tornare da double pump perchè lo stanno chiedendo gli streamer di tutti di più lo stanno chiedendo anche i giocatori in sé la epic game gli ignora cioè è possibile questa cosa che cioè hanno ascoltato per la revolver quella che mi piaceva anche un botto anche se non lo sapevo usare cioè no è vero ma tanto in questa modalità c'è almeno penso no aspetta ad entrare da qualcuno no 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 perché fischi non mi metano perché mi piace mi piace fischiare tv e ti dico che non puoi però potevano fare la mappa vecchia la mitraglietta silenziata la mia caramata no sai che la mitraglietta silenziata la mia preferita lo so anche anche la mia lo era solo che è uscita sta metraglietta stifoso da 18 colpi del cavolo e ha rovinato la scena a quella silenziata che era anche la più bella era ciò che i giocatori nabbi non sapevano usare hanno detto la epi game epi game rimuovete perché tanto fa stifo loro che facciamo così ma va dai cioè in questo modo era bellissimo quando metti la mitraglietta silenziata vecchia fa un rumore bellissimo lo so lo so ma lo ricordo non serve no ma sono controlli duo oppure si qua fanno facendo team stanno ok vai entra 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 nei miti 96 persone su 16 quante persone che stanno andando su creativano cioè io vorrei capire ma che cosa ti danno se tu fai la prima sfida cioè c'è un pacchetto di regalo che io non capisco che cosa ti danno o capisco comunque rega vi devo vi devo fare vedere una cosa di cosa mi è venuto prima ve lo devo fare assolutamente vedere mettete questo link per favore e guardate cosa mettete questo link e guardate cosa mi è successo mi è ragazzo no guardate questo video e guardatemi cosa era raga ditemi se vi è venuto anche a voi cosa aspetta fammi vedere quello che ti ho detto prima ma anche in live si vediamo cos'è successo vediamo cos'è successo dobbiamo anche c'è sta roba nel video si ho capito anche a me è successo comunque deve andare su creativa per farlo questa cosa quale per avere il primo la prima sfida perché la prima sfida ti dice abbiamo un server modalità creativa partecipa a una esistente raga ma perché il server privato cioè parti privato aspetta 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 ok ragazzi da quando da quando da quando giochi in beta per favore per favore ma tu conosci do cam battle no ok ben ammazzato vabbè allora a me non mi puoi entrare come cavolo e postanti aspetta entro l'attacri matix ha usato lo snowboard in anticipo è in creativa grazie andiamo in creativa avvia a squadra da 33 c'è una nuova modalità squadra 33 ma si ma si ma avvia a prima su creativa così almeno possiamo avere questo regalo ma cosa squadra da 33 andiamo andiamo al inizio di gioco perché c'è questa cosa che vuole andare in un certo di gioco no no lo invito nel party io ho apporto non ti pronta cosa bisogna fare avvio avvio una modalità creativa partecipa a un esistente o mannaia di quella mannaia o quante persone stanno a venire ma io faccio tutto se non mettono pronto l'espello sti qua madonna solo vai privato privato ok va giuro c'è un gioco di gioco no invitalo invitalo nel party ma se che lo vuoi cercare tanto è un nome facile ma sono i fan secondo se lo sto invitando nel party ma perché ha quitato che cacchio è mesato da lui cosa perché la gente ci vuole da fastidio allora facciamo vedi 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 e quante persone stanno andando in creativa per fare questa cavolata ma dopo di questo cosa ci sarò ah ma perché lo puoi fare solo in 13 giorni no in 14 tre anni c'è sito 3 abbiamo aspetta intanto che aspettiamo io vado su instagram ma ma dove aspetto guardi no anzi guarda i miei video intanto ti mando su isto ti mando il video dei 6 scar aspetta 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 un nuovo sei un perdente un nuovo un nuovo ballo che tipo sei un perdente però che si chiama take death sì sì allora quick 3 loading scheme bellissima aspetta che ho avuto un video se la mando a te te lo guarda vediamo questo guarda tutti i tuoi video che ti ho mandato no 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 prima guardi i miei video poi i guardi tuoi se ho capito sto guardando calma tutte e due ecco stiamo andando questo è il primo ok e questo è il secondo ah per me la seconda modalità è tipo giocare modali tipo giocare modalità 33 aspetta andiamo vediamo che cosa ci darà andando sul creativo allora intanto proviamo ad andare sul tuo sulla tua lobby poi facciamo qualche cosa e poi vediamo cosa succede e poi torniamo nella lobby no perché c'è sono curioso ma poi voglio anche vedere dopo squadra 33 squadra per 33 cosa sarà squadra 3 3 3 3 contro 3 contro 3 perché cosa che come sarà montata attacco a paintball aspetta viene qua c'è 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 a te stai a dor aspetta io sono entrata nella mia qua alla tua ecco perché non andare nella tua roba ormai se non andiamo a cosa ci danno ma che cavolo hai fatto tu ok mamma mia quanto comportava bene anche sopra e guarda sopra lo sono infatti mi sta caricando comunque allora aveva visto tutta sta roba ora proviamo a riuscire ok giuro che si trova mica ci mette due ore per quittare 3 2 no ma non voglio vedere voglio vedere cosa succede va bene va bene ho qui sono curioso per me è bagato perché non so perché ma non so perché ma per me è bagata anche secondo un pochino secondo me però no secondo me no allora vediamo 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 ecco what decorazione no bellissimo decorazione gg bellissimo è la seconda è la seconda sblocca tra 24 ore no ogni giorno dobbiamo farne una diverso ma così brutto ogni giorno di spetta tempo e se quando io dovrò andare in aereo a mai vero tra 14 giorni ci sono ancora dai 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 metti squadra tentata oppure facciamo io voglio provare questa squadra 33 perché per me sarà tipo 4 contro 4 4 4 4 oppure 3 contro 3 contro 3 no comunque io non ho messo non riempire ho messo ah e mo vediamo io l'ho messa la lo spray ma che cosa ti ha dato anche a me lo spray gg comunque c'è un giorno un giorno ci da giuro che sia l'ultima all'ultima missione all'ultima missione se non mi danno una skin madonna tempi che stupida te lo dico ma anche secondo me ci danno uno skin secondo me perché è tipo nella penultima nella penultima danno un piccone e nella terza ultima danno una scia se non fanno anche secondo me però ma perché comunque c'è uno con un po di 30 30 30 30 aspetta 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 c'è certo no che scrivo sto modalità io l'ho già provata una volta fa schifissimo vabbè comunque c'è sto laggando con i tuoi server vabbè se vuoi poi guarda capigata cosa ti posso dire andiamo a corso con me aspetta ma qua c'è sarà il po uno che si muore non dimmi che non respawni per favore anche io lo spero per quale intenderò che stiamo dai da parte pubblico no bella no perché noi siamo in 31 poi ma non mi ha detto la mannaglia ma perché a me non è tutta la gente di pinnacoli è venuta qua e io ti frego tutti stavolta si può aprire il da plano che bello si parla dai che spizza perché sto laggando come uno schifo quello io no che sì ma non dai a finocchi fino skin del cacchio è morto è morto è morto è morto non sono morto una cosa che vorrei scoprire è che se si può andare in ferimento dunque per quello io non voglio per quello non volevo giocare con te a battagliare perché mostro io sto laggando in questo momento è perché sarà al mondo non lagghi no aspetta aspetta provando e così di server brasiliani vediamo penso che la guerra di più penso pensi tu pensi ancora non so andimi safe ma dove sei tu ma nella mappa io vedo due degli omini rossi tipo guarda qui dove ti ho messo sei quali sono nemici quali sono nemici e perché te ne fa vedere tre lo so mi fa che ti fa mi sa che ti fa vedere quelli che fanno che fanno le kill mi sa credo ranzullo mi viene aiutare che non c'è respawno e lo so come non c'è respawno meno male anche meno li posso rubare il lotto il problema che io lago non sto laggando ok viene cosa positiva vieni comunque dopo faccio una classica per fare è da 2 no no dai che non si ripona qui devo giocare bene a terra abbassato si si però ne manca un altro ok l'hai ucciso si a posto bene quante kill hai io una 1 0 ma hai detto che l'hai ucciso eh vabbè perché uno l'aveva perito e poi io l'ho mancato andiamo a passatempo ma aspetta ma a te ti sei shoppato la skin quella là di shop non mi dire sì anche il piccone caramello ma poi c'è anche e anche il badaione anche la skin badaione allora va bene tutto il skin nel piccone ma quella quella minuetica fa veramente schifo io non l'ho presa io non l'ho presa vabbè meno male no perché io ti ho sentito io che l'avevi presa vabbè chi l'ha detto tu hai idea hai band no però un palo se me lo metti dai bro qua qua non c'è respawn lo devi mettere madonna se ti cecchino aspetta aspetta ora provo a farlo aspetta sono ottimata guarda gli airdrop vecchi natalizi e quanti ce ne sono 88 di vita ci sono nemici nemici la vinceremo questa ma secondo me no però no esseriamo sempre ciò però che non moriamo perché già ne siamo in pochi non vedo un po se sto a questa modalità poter stata in a me a me mi piace di più che lasciare fauna ok il dato 24 potevano mettere le cose vecchie qua aspetta provo a vedere c'è un nemico c'è un nemico nella casa c'è un nemico madonna c'è anche se che se faria tutti non bombardano e vabbè chi l'ho fregata così poveretto i nostri in devono morire ma poveretti ma dai comunque nel quartiere anche l'hanno già annunciato il vincitore davvero no questo qua il mio amore più profondo il lanza ma che bug che bug mi è appena successo è successo un bug che non mi ha fatto saltare dalla gamba eh non è un bug se ne sa per i brasiliani io lo so ma è un bug lo stesso sicuro del per cui ha creati l'euro però se si viene in quadro sennò poi nuova di più muoia italia mazzate non aveva armi poveretto poveretto un cavolo no perché mi fa ma perché mi fa l'auto si chiama l'auto chiesti dove se mi dai dei colpi di cazzo oppure di pompa no grazie sai cosa vuol dire a non so più tanto ragazzi ma adesso il mio sogno è prendere la fenditura e prendere una al volo cosa più importante ma guarda la mappa guarda quanti rossi che ci fa vedere o mamma quanti ne sono aiuto e te tu sei dai l'hanno ucciso si uno a uno bravo uno a uno giuro proprio li sto facendo da uno uno a uno uno a uno ok ed è uno asserrato è un ammazzato bro io tre kill io ne ho due a terra no 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 e vabbè mi hanno ammazzato però è un ammazzato non quittare secondo che non messi due a terra ma io ho la scuola mi piace sta modalità perché fai un botto di kill fai ho fatto già cinque ma ma a me non mi piace perché poi c'è tu la dio lag poi a posto e vabbè ci credo che la giserva i brasiliani a proposito la mia osserva al mondo un pochino vabbè vai da solo ciao ma perché dai no non mi piace più sta col mondo come a noi ci faccio una classica almeno ho ragione ah ma è per tutte le modalità vabbè io vado bro è per tutte le modalità ah ciao Sì un mio amico sta già a 61 di cosa del passo cosa sembra che tutti il bus che la battaglia diretti verso i partiti giocchi metti pronto comunque nella modalità classica gli dovremmo tipo scrivere alla epic di mettere tutto dopo il pompa vado un attimo in bagno un po' sono dei nostri rossi ma non giù gli facciamo vedere la modalità classica e dopo li facciamo vedere squadre 33 no dai per favore allora dopo la faccio vedere io da solo poi intanto io vado su creativa a vedere la nuova mappa che hanno annunciato che a rapida ma perché poi hanno messo sì 14 giorni di fortnite no cioè non lo so forse però l'hanno fatto anche con fortnite mares se ci pensi hai ragione però è uguale perché no perchè su fortnite mares ti faceva vedere le cose a parte quello ma anche perché si sono 14 oggetti 14 regali e invece su fortnite mares non c'erano aspetta ma quelle 14 regali aspetta muovano su instagram dopo dopo questa partita perché devo vedere se hanno annunciato i regali che cosa c'è scontandone con i regali unito il mio clan mi dovrà regalare un ballo ma nato regalo babbo natale quanto mi quanto mi mancavi orgo video gioco una cosa no io ci farò un video sopra del double pump un video sfogo no 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 video sopra perché la modalità classica non è davvero una modalità classica non lo è ce lo dico io non vabbè lo so la mappa dovrebbe essere diversa aspetta aspetta però se la festa però se la modalità doveva essere diversa dove non fare un aggiornamento grande dopo a parte quello manca perché se loro l'avrebbero cambiata poi rimane sarebbe proprio quella nella modalità proprio singola quello che potrebbe essere problema no vabbè io preferivo sai qual è che c'era la moda questa modalità e tu potevi decidere si double pump no double pump e dopo potevi scegliere ma fa norma ma fa vecchio ma fa nuova cosa le babbari però passano dalla ma vaffanculo ciao io quitto perché qui perché uno scar il giuro sono oro quitto davvero almeno ne approfitto per fare vedere sta modalità di merda ciao ciao strumento bello che ronzo neanche viene è quello non è niente ronzo quella non armi a uno scar e basta guardate con due è perché tu no aspetta che sto lagga me lo schifo io ti vedo che faccio cadere e vabbè poi arriva quest'altro no 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 quanta perso da scan e mi ha preso quanta vita 14 di vi insomma ombra puntini puntini possiamo dire io vado a trossare dal mondo perché veramente per quello io battaglierei la odio perché poi arriva quel momento in cui mi fa incavocchiare è un casino perché sei nabbo perché non ti giochi mai è normale ma sai perché più tu non giochi più morirei ti incazzerai è normale ma sì ma aspetta aspetta ma io allora io avevo attraversato la scala lui mi ha potuto attraverso le scale ci credo siamo alle salve brasiliane lagga però io grazie che poi io laggo ecco perché tu stai in cui allora ragazzi c'è vedere che sta squadra è da 33 che mi io mi sto sfogando un casino costo io non dico niente ma niente 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 nel vero senso della parola che io devo dire qualcosa che io devo dire qualcosa tanto io non mi diverto affatto con sto gioco del cazzo io non mi diverterò ma nel vero senso della parola io non mi diverterò mai 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 ma mai ma mai nel vero senso della scuola ma 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 perché ma non è uno fermio va bene ok 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 No, 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 no... Sì 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 Ora Aspetta quante ne ho? Ok vabbè Ne ho rese acquistato uno Sì Soddrà perchè Kaude ancora 14 Quindi ci fermiamo Sì 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 Sì